La rete, un luogo impreciso che raccoglie tutto ciò che è conosciuto o immaginato. La profondità che può raggiungere non è ancora stata stimata, e il poche l'antigano oltre la sua superficie. È incredibile la vastità di informazioni che può essere qui racconta. Qui c'è tutto, qui ci stiamo tutti. Questi sono i miei amici. E questa è la nostra storia. Grazie. 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 Grazie.